Con il Natale tornano gli appuntamenti con i presepi viventi. Nel giorno di Santo Stefano si apre quello di Larino, arrivato alla sua decima edizione grazie all'impegno e alla sensibilità dell'associazione CAR, che sta per culturale, artistica e ricreativa, guidata con tanta passione da Giuseppe Petriella. Numerose le scene che vengono riprodotte all'interno del centro storico e che portano fino alla grotta della Natività. Quasi 200 i figuranti che mettono a disposizione il loro tempo e il loro entusiasmo per condividere un progetto che ormai si è radicato nella comunità e che riesce a portare a Larino sempre tanti visitatori. Appuntamento dalle 18 alle 21. Si replica il 30 dicembre e il 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi. Taglia il traguardo della 33esima edizione il presepe vivente di Montenero di Bisaccia, organizzato dalla Proloco Frentana, presieduta da Daniele D'Ascenso, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Le numerose scene arricchite dalla presenza degli animali sono allestite nelle suggestive grotte arenarie, un percorso naturale molto realistico che conduce il visitatore fino alla natività. 27 le scene in programma con circa 200 figuranti, tra pastori, mercanti, scalpellini, vasai, massai e tessitrici con l'aggiunta quest'anno del maniscalco. Il presepe sarà aperto il 26 dicembre dalle 17 alle 20, il 6 gennaio in via straordinaria quest'anno il 7 gennaio a partire dalle 16 quando a interpretare erode ci sarà l'attore Alex Belli. È arrivata la tredicesima edizione invece la mostra dei presepi di Campomarino, organizzata dall'associazione Borgo Antico guidata da Costanza Carriero. Centinaia di miniature provenienti da ogni parte del mondo sono esposte nel centro storico dove è possibile degustare anche prodotti tipici. L'appuntamento è per il giorno di Santo Stefano e per il 6 gennaio dalle 17 alle 20.